In Senato ci siamo confrontati, abbiamo discusso e abbiamo votato su due emozioni, una di maggioranza e una di opposizione, relativamente alla parità di genere e agli strumenti di sostegno alle donne lavoratrici. Le emozioni nascono, sia per la maggioranza che per l'opposizione, da una paura di fondo che è quella che la fase 2 lascia a casa le donne, perché il ritorno al lavoro, sia pure progressivo, ma all'assenza delle strutture scolastiche, ha creato un cortocircuito che sembra lasciare a casa le donne e gli uomini tornare al lavoro, un po' come era negli anni 50. Quindi ognuno di noi ha cercato di indicare al governo strumenti utili nella riorganizzazione dei modelli scolastici e strumenti utili per la condivisione del lavoro di cura e strumenti per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ci sono quindi problemi antichi che si sommano a problemi nuovi, penso per esempio agli spostamenti, alla mobilità o anche alle forme di telelavoro, di smart working, quindi problemi nuovi che si sommano agli antichi e il rischio è quello di un cortocircuito, in assenza di risposte concrete, che alla fine si scarichi sulle spalle delle donne. C'era anche un altro nodo sotteso alla discussione, almeno nella nostra mozione di minoranza, ovvero la sottorappresentanza di genere nelle task force. Premesso che noi critichiamo questa pletora ridondante di task force, comunque abbiamo anche evidenziato, insieme peraltro ad appelli della società civile che le donne non siano state ugualmente rappresentate come se non avessimo competenze femminili da inserire nelle task force. E sinceramente l'aggiunta di ieri di 11 donne, quindi un'aggiunta fatta in estremi se un po' con il contagocce, personalmente l'ho giudicata come la peggiore del danno, perché la democrazia paritaria è un principio costituzionale e non è mai un...